Ciao Fabio. Ciao, ben arrivata. Ho trovato subito la strada. Oddio, ho fatto un po' di fatica. Vieni, vieni, vieni. Cara Fabiola, quante anni hai che tu hai già fatto dei provini? Sì, sì. Facciamo una cosa. Io, come da Accademia, come da Accademia, sai che è natura deve esprimere dei sentimenti. Ti darò degli input, di gioia, dolore, amore, seduzione. Tutti quelli che sono nella gamma dei sentimenti, attraverso i quali si esprigono poi gli attori e poi tu ti inventerai e mi dirai mi farai vendere. Penso che hai delle difficoltà nel trovare un compagno, nel avere un rapporto anche così, solo di piacere. un secco male, un secco male, mi hai fatto un secco male. Calma il telefono. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.